Il gabbiano ha preso il sorcio, ha preso il sorcio, che schifo Hai preso il sorcio? Eh? Hai preso il sorcio, frate? Buono, eh? Buono il sorcio? Guarda, 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 guarda 4 macro argomenti Food content Digital content, ovvero tutte le curiosità digitali del momento Urban Explorer, nuovi posti turistici, nuovi luoghi, scoprire le curiosità di quei luoghi Ovvero tutti i contenuti che hanno a che fare con la campagna, con le produzioni agricole Tutto ciò che è la sfera iniziale dalla quale è partito tutto questo canale Un siciliano in campagna, siamo sempre di più Mi raccomando, vi aspetto lì, eh? Iscrivetevi e attivate la campanella Ciao!